Ecco tre cose assurde costruite per cani Benvenuti a T.T.U.K. In Alaska esiste uno scuola bus per cani che ogni giorno passa a prenderli a casa e li porta a scuola di addestramento Uffa, voglio salirci anch'io E adesso passiamo alla prossima notizia Aspettati, ma cosa c'è scritto? Non è possibile, avrò letto male Qua c'è scritto che esistono delle pantofole da far indossare a noi cani che servono per pulire i pavimenti degli umani Ma, mi dissocio Infine, Missuri in America hanno creato il biscotto per cani più grandi del mondo che pesava 280 kg e misurava 6 metri Infatti ci sono voluti 10 pasticcieri per prepararlo Biscotti? Chi ha parlato di cibo? Mi dispiace per te, gattina ma non esiste più Infatti è stata donata a Human Society un'associazione che ha regalato pezzetti dell'enorme biscotto a tanti cani del canile Alla prossima edizione!